Hai la sensazione che con quella mano di L'Oriente abbiamo tolto tre punti nell'ultimo tiro la mano è il palo ha fatto il suo Peccato, è stata una partita combattuta e equilibrata perché il ragazzo è andato tutto abbiamo sofferto un po' il secondo tempo poi ci siamo messi alla fine 4-4-2 ci mancava un po' l'inizio scendo cambiato per quello che ci dà superiorità Peccato per quel palo però devo dire che quello che avevano non l'ho dato è chiaro che è un momento per i giocatori che è un po' più stanco e brillante adesso ci andiamo alla partita di domenica sicuramente oggi la vittoria sarebbe stata importante Il cambio di Oredini è in quest'ottica qua? Nell'ottica delle tre gare? Nell'ottica che comunque domenica aveva avuto domenica e sera la febbre tutt'oggi ha giocato, ha fatto bene però dobbiamo pensare che non di avere gente brillante se facciamo sempre fare 95 minuti poi giocando nei tre giorni e che venga qualcuno a ripiattare a 4-20 minuti c'è bisogno di avere un certo per cento L'infortunio è ricambiato? L'infortunio è ricambiato? L'infortunio è ricambiato? L'infortunio è ricambiato? L'infortunio è che da quello che sembra sembra brutto e adesso poi... Cinocchio Dalla dinamica io... Ma non c'è un contrasto forte si è bloccato e si è girato il ginocchio la sensazione sicuramente era dolorante adesso domani sapremmo cosa sembra più facile Viste a un certo punto è girata una voce in figura che fosse solo una forte contusione quindi era una fake news cioè... No, è inutile domani lo staff medico lo faranno certamente il caso e sappiamo qualcosa di più Grazie Come giudica la prova di Cleur quest'oggi schierato titolare? Cleur è uno di tanti giovani che abbiamo adesso è segnito anche le tre partite era un partito bene a mezz'ora poi con l'infortunio di cambiarlo è passato a fare il quinto che l'ha fatto bene è chiaro che le caratteristiche sono diverse È chiaro che probabilmente con l'ingresso di Riviere poi nel secondo tempo è stato un pochino più limitato sulla situazione offensiva perché comunque alla fine la Juve è stato dentro continuamente uomini d'attacco Si, hanno cambiato i tre davanti non cambiando le qualità perché chiaramente tra l'attuale è un'idea è un'idea So che lei starà sicuramente pensando alla sua squadra ma ha affrontato la Juve anche l'anno scorso all'inizio di questo progetto ha cambiato tanto la vista più matura, migliorata più centrata sulla categoria rispetto a quella che ha affrontato la scorsa stagione Si, si sicuramente stanno facendo anche loro un gran campionato hanno ancora un ruolo giocatori di qualità anche se giovani noi oggi erano tanti in campo sia che giocatori che sono in grado è un'idea Oggi è stata una partita comunque combattuta e equilibrata, noi siamo in un momento che non siamo proprio al top della brillantezza, rispetto a altre partite abbiamo avuto meno occasioni anche se l'abbiamo avuta anche oggi, c'è stato quel quarto d'ora del secondo tempo che abbiamo un momento in meno sofferto, poi rimettendoci a porti sui sartori e fare avere una qualità di uno contro uno che nell'uscita di Cambiato c'è comunque mancato. Questa è una soluzione che puoi pensare in prospettiva a Crema o no? Sicuramente adesso, visto lo sviluppo, quella qualità lì, l'avevano cambiato, diciamo, 5 di centrocampo, se non ci dovesse essere sicuramente è qualcosa che dovrebbe pensare. Ma cosa è dovuto questo, molte questioni al posizio, queste ammunizioni che potrebbero lasciare anche essere il campo? Oggi ammunizioni, diciamo, sono state ammunizioni perché la partita i ragazzi ci tenevano a portare a casa e vinceranno e quindi ci sta anche per l'ammunizione, giusto o non giusto, non lo so, se è stato, magari quelle della partita scorsa in effetti potevano essere utenti. Grazie. Grazie. M. Su Gazi hai un'idea di cosa succede? Tempi? C'è qualcosa in più? No, anche Gazi, voglio dire, siamo vicini a rientro. Ma non ancora rientro in gruppo, cioè non è ancora in gruppo lui? Sì, è rientrato in gruppo dall'altro ieri, quindi... In previsione Provercelli magari? Sì, con la Provercelli che non si diceva. Grazie.